Eder, Mech, Pallister Eder, Mech, Pallister Carol e Giuseppe avrebbero tentato in tutti i modi di lasciare la città, anche chiedendo aiuto a degli adulti Le famiglie dei ragazzi sono sempre più disperate Molte delle segnalazioni arrivate nelle ultime ore si sono rivelate infondate L'appello è ancora uno, chissà, parli Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale Eder, Mech, Pallister